Da 13 anni attende che il comune di Foggia le riconosca 1.400.000 euro per aver eseguito una serie di lavori pubblici come rifacimento di strade e aree verdi. Ma nonostante l'affidamento con somma urgenza, il comune non ha mai saldato quel debito, mettendo in crisi la ditta che è finita nelle mani degli usurai per poter pagare tasse, IVA e dipendenti. E l'odissia vissuta dalla Gracos, che per la sua drammatica condizione ha avuto anche accesso al credito previsto dal fondo anti-usura. Nel 2018 quattro strozzini furono condannati. Due anni prima la ditta avviò l'azione civile per il recupero dell'ingente credito, ma sia i giudici che i revisori dei conti del comune stabilirono che le eventuali responsabilità andavano ricercate nei singoli dirigenti e tecnici comunali. La Gracos dunque presentò una denuncia per omissione in atti d'ufficio, ma nei mesi scorsi la procura chiese l'archiviazione per quattro indagati ritenendo il reato prescritto. Il legale della ditta ha presentato opposizione la richiesta del PM. Una famiglia che vive nel baratro, un dramma umano perché l'impresa familiare ovviamente non lavora più, di fatto continua a fare piccoli lavori, ma è inutile dire che queste erano le principali commesse. Pertanto una famiglia in ginocchio che si augura di poter trovare presso giustizia e poter mettere presso la parola fine a questa bruttissima vicenda. Potranno recuperare questa somma se prende avvio il procedimento penale, costituendosi parte civile nel processo, altrimenti affidare alle sorti di un successivo giudizio civile l'azione di recupero. Ma ci auguriamo che il processo penale e la giustizia faccia il suo corso.